Nuovi interventi strutturali all'insegna della mobilità sostenibile sono stati approvati oggi dalla Giunta Comunale di Pesaro. Si allunga infatti la Bicipolitana con il Comune che ha messo in agenda il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo collegamento tra i quartieri di Vismara e Torraccia seguendo l'arcine del fiume Foglia. Un intervento da 450 mila euro di cui 337 mila cofinanziati dal Ministero della Transizione Ecologica per unire Via Lambro, Liri, Timavo e Gagarin. Nuovi chilometri di ciclabili ma anche un bike hub ovvero un deposito per biciclette al servizio dei parcheggi scambiatori che saranno realizzati alla stazione ferroviaria. Un lavoro da 130 mila euro che l'assessore all'operatività Enzo Belloni fa sapere che andrà a gara di assegnazione a fine anno all'interno delle più ampio progetto di riqualificazione della stazione sottoscritto recentemente fra Comune e reti ferroviarie italiane. Ciclabili ma anche rotatorie. Dopo anni di New Jersey diventeranno definitive sia la rotatoria di Largo Tre Martiri sia quella all'incrocio fra la Statale e Via Milano. Due luoghi di transito molto trafficati per i quali saranno investiti 400 mila euro finanziati tramite allineazioni.